Buon consiglio, ben ritrovati per una nuova puntata di De Maria Non Cansatis. Come sempre vi parla di Leonardo Maria Pompei, stiamo dentro il terzo dogma mariano, in particolare l'Immacolata Concezione, scusatemi, di Maria Santissima, che abbiamo ampiamente introdotto in due puntate precedenti e cominciato a approfondire, proprio leggendo il testo della definizione dogmatica del Beato Papa Pio IX dalla volta scorsa. Abbiamo visto il paragrafo introduttorio, che è il numero 1 della bolla, ai numeri 2800 e 2801 del Denzinger, nei quali abbiamo fondamentalmente precisato il grande principio teologico della doppia predestinazione di Gesù e di Maria, è un unico decreto di predestinazione eterno da parte della Santissima Trinità, che ha stabilito che il verbo si facesse uomo e contestualmente che ci fosse una creatura perfettissima, che avrebbe fornito la natura umana, quindi la base umana dell'incarnazione del verbo, perché pertanto questo verbo sarebbe veramente, realmente stato contestualmente ad un tempo, vero figlio del Padre, in quanto una natura divina, e vero figlio di Maria, in quanto una natura umana. Abbiamo anche visto che questa doppia predestinazione, che è un dato di fatto della teologia dogmatica, e quindi è certamente annoverabile tra le verità di fede, della fede divina e cattolica, e anche alla base del possibile peccato originale angelico. Abbiamo accennato questa ipotesi teologica, ovviamente abbastanza fondata, a mio modestissimo avviso, che però nonostante rimane comunque una ipotesi teologica, e circa quindi la ribellione che gli angeli ribelli avrebbero provato dinanzi alla decisione dell'Altissimo, quindi di Dio, di procedere all'incarnazione mediante una creatura umana, che per questo sarebbe immediatamente, quindi ipso facto, stata sopraelevata al di sopra di tutti gli angeli e di tutti i santi, e quindi necessariamente oggetto della loro venerazione. Sempre nella precedente puntata, sempre per introdursi un po', abbiamo concluso, questa che comunque rimane un'ipotesi per quanto plausibile, con delle considerazioni che purtroppo ipotesi non sono, circa il dramma della libertà delle creature intelligenti, insomma, che è da un lato il fondamento della nostra dignità e della nostra somiglianza con Dio, e quindi anche della nostra possibilità di giungere a grande santità, di meditare, di fare della nostra vita veramente un canto di lode all'Altissimo, ma è anche purtroppo il fondamento della possibilità di trasformare la vita in un disastro, in un inferno anticipato, di un inferno che poi continua dopo, insomma. Quindi è una problematica molto, molto, molto seria, e come si vede, quindi vedete come dietro a tutto ciò che si muove, diciamo così, intorno alla Madonna, ci sono sempre coinvolte tante realtà che meritano, insomma, una grande attenzione e una grande considerazione. Ecco, direi che possiamo a questo punto andare un pochino avanti e seguire il secondo paragrafo della Ineffambilis Deus, che è il numero 2802, dove brevemente il venerato Papa dà dei scendi sulla continuità storica della credenza nell'Immacolata Concezione, capite? Cioè, nella Chiesa Cattolica c'è questa verità di base, che dobbiamo sempre ricordare, che è espressa da un adagio latino che dice semel verum semper verum, cioè se una cosa è vera deve essere stata sempre vera. Quindi un criterio fondamentale di valutazione anche delle verità di fede o anche quando si vorrebbe definire una nuova dottrina è una rassegna veloce su quello che nel corso della storia la Chiesa ha creduto. D'accordo? Perché se una cosa è stata creduta più o meno diffusamente sempre, questo è un ottimo indizio. Se una cosa sia completamente, insomma, non abbia dei fondamenti almeno impliciti, insomma, anche sotto questo punto di vista, ma sia proprio una cosa tirata fuori ex novo così, non è detto che per questo stesso fatto non sia vera, però certamente è un dato di fatto da cui bisogna partire. Quindi se è stata creduta è molto meglio, se non è stata creduta c'è bisogno, come dire, di approfondire un altro pochino. Leggo testualmente quello che il Papa scrive. Infatti la Chiesa di Cristo custode e vindice delle dottrine a lei affidate non le ha mai alterate né con aggiunte né con diminuzioni, ma tratta con tutti gli accorgimenti della sapienza quelle che l'antichità ha delineato e i padri hanno seminato e cerca di limare e di affinare quelle antiche dottrine della Divina Rivelazione in modo che ricevano chiarezza, luce e precisione. Così mentre conservano la loro pienezza, la loro integrità e il loro carattere, si sviluppano soltanto secondo la loro propria natura, ossia nello stesso pensiero e nello stesso senso. Qui c'è anche una citazione del famoso Commonitorium di Vincenzo Dalleren. Commentare questo paragrafetto della Ineffabilis Deus è una piccola lezione stupenda di come la Chiesa veramente nella sua sapienza custodisce, trasmette ed anche elabora e in che senso e in che modo le dottrine. Abbiamo visto che il dato di fatto, il dato della continuità storica a proposito dell'Immacolata Concessione non è l'Immacolata Concessione ipso facto, ma è il fatto che nella Madonna la Madonna è la tutta pura, nella Madonna il peccato non c'è. Quindi quando Pio IX dice che la sapienza della Chiesa ha il compito di limare e affinare le antiche dottrine della Rivelazione, vedete che questa è un'operazione di raffinatura, dice bene, se la Madonna è senza peccato, quindi quando si parla della Madonna si parla della panachia, si parla della totapulcra, quindi su questo sono tutti stati, non volevo neanche sentirlo parlare. Allora, quante specie di peccato ci stanno? Attuale e originale. Quindi è esente da tutte e due, in che modo e in che senso? Questa è l'operazione ulteriore che è stata fatta, quindi perché la definizione del dogma dell'immacolata concezione è precisamente la puntualizzazione che non soltanto la Madonna non ha commesso alcun peccato attuale nella sua vita terrena, ma non è stata nemmeno toccata dalla macchia originale. Ibi compresa la spiegazione di come questo dato di fede non sfugga al principio della retenzione universale di Cristo. Abbiamo visto due puntate fa, punto che aveva fatto andare in tilt, in crisi, anche Sant'Ommaso d'Aquino dicendo, eh no, però se non ci sta almeno un istante la Madonna sfuggirebbe al principio della retenzione universale di Cristo. E abbiamo visto invece come Dunscoto gli ha detto, no, d'accordo, perché ci sono due modi di salvare una creatura, una salvandola dopo che è caduta e l'altra preservandola di cadere, impedendola di cadere, tenendola per mano perché non cade e non si rompa la testa, quindi è meglio che la testa non te la rompi piuttosto che dopo che te la sei rotta te la fasci. Ecco, secondo il principio comune. Quindi, rileggiamo insieme, perché è bellissimo, anzitutto, la Chiesa è custode e vindice delle dottrine alle affidate, cioè proprio la Chiesa ha questa bellissima funzione nel corso della storia, custode e vindice è una cosa che si vendica, cioè la Chiesa custodisce e difende le sue dottrine, d'accordo, le difende certamente non andando a fare le guerre puniche, d'accordo, sempre con degli stili, con dei modi che caratterizzano l'essenza stessa della Chiesa. La Chiesa è la sposa di Cristo, la Chiesa è sempre discepola del suo maestro mite ed umile di cuore, quindi toni, modalità insomma, belligeranti, o come dire apostrofanti o strillate o cose di questo genere non appartiene allo stile della Chiesa, questo certamente è sempre stato vero nei documenti ufficiali, ma dovrebbe essere anche un pochino vero anche come dire nella volgata comune ecco della trasmissione e della fede, i toni devono essere sempre moderati e pacati ricordando sempre che la fede si propone o non si impone come diceva Sant'Ommaso Davino stesso che la verità si difende da sola non ha bisogno di strilli e di come dire di modi troppo appariscenti e poi deve sempre osservare quel grande diciamo così modo di procedere che appunto è la veritas in caritate si dice quindi si dice la verità nella carità ecco ciò detto però la Chiesa non concede sconti da un punto di vista di purezza della dottrina cioè non è che io per andare incontro a qualche esigenza o a qualche difficoltà posso stemperare annacquare o peggio tradire una dottrina capito questo non si può fare mai ecco quindi quando si tratta di dottrine morali certamente vale poi il principio che la legge morale che conserva tutto il suo rigore e la sua coggenza diciamo così va però applicata con discernimento e con sapienza nei singoli casi concreti questo è un morale generale quindi alla luce delle circostanze per cui le circostanze vanno sempre come dire verificate puntualmente e meticolosamente per vedere se come in che modo poter applicare l'immutabile legge di Dio in quella circostanza in quella situazione concreta no? d'accordo? che certamente bisogna applicarla ecco però bisogna calarla nella realtà di vita che non è anche in questo caso nessuna forma di tradimento della ripeto coggenza morale della legge di Dio ma è appunto la sua circostanziazione ecco non sono il termine un po' ecco che necessita insomma di un esempio sciocco no? che non riguarda la legge non riguarda la vita comune no? cioè è chiaro che se io che sono sacerdote che sono in parrocchia mi trovassi a come dire fuori sede a guidare un pellegrinaggio evidentemente non posso guidare un pellegrinaggio così come vivo in parrocchia quindi certo che ho dei doveri da tempiere devo dire l'ufficio divino insomma ma lo farò nelle circostanze adatto a un pellegrinaggio d'accordo magari non posso celebrare la loda in chiesa se sto in viaggio ve celebri sul treno d'accordo certo ordinariamente il treno non è proprio si può pregare dovunque insomma capite ecco se è insomma necessario che stiamo facendo un viaggio di 24 ore che non si trova un luogo sacro dove poter celebrare eccezionalmente se si conservano le cose di un decoro uno può fermarsi in un bosco e celebrare la messa all'aperto insomma cosa che ordinariamente sappiamo la legge della chiesa richiede il luogo santo per celebrare l'eucaristia però capite questi sono esempi adesso non voglio scendere perché non è questa la sede che fanno sempre capire come questo non vuol dire cioè che se io in circostanze particolari posso celebrare la messa dentro del bosco allora dico chiudiamo le chiese e andiamo a celebrare tutti i giorni nel bosco non so se se rendo l'idea no ecco quindi ecco dette queste cose proseguiamo quindi le dottrine devono essere dalla chiesa custodita e non alterate qui vedete che bello abbiamo oggi un eco della prima lettura della messa di ieri io ci ho fatto un'omelia proprio che si chiede stavo già a credo online che si chiama alla legge di Dio non si può togliere né aggiungere nulla non possiamo fare operazioni né di ampliamento come facevano come hanno fatto i figli iscrivi ai farisei che avevano insomma aggiunto lavamenti di stoviglie cose tutti inutili diciamo da un punto di vista etico ma neanche decurtazioni siccome oggi capite oggi sono stati tagliati i vestiti capite accorciati 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 quindi oggi va di moda il taglio e quindi il taglio va di moda anche nella legge di Dio quindi se taglia ma la legge di Dio non si può tagliare d'accordo la legge di Dio rimane capito integra il vestito rimane intatto senza accorciamenti dal basso o dall'alto no e Pio Nono dice la chiesa custode e vindice dell'ottrina delle affidate non le ha mai attirate né con aggiunte né con diminuzioni ecco non si possono fare cioè per esempio dico subito un danno che è stato fatto alla dottrina per esempio mariana e l'è stato fatto in vari periodi storici è che qualche gruppo come dire bisognerebbe chiamarli un po' facinorosi un po' a volte fanatici d'accordo pur partendo dalla dall'idea in sé buona di rendere gloria alla Madonna di venerare la Madonna di esaltare la grandezza della Madonna è però andata oltre d'accordo oltre d'accordo cioè sono state delle cose date a folli tipo la quarta persona della Santissima Trinità insomma capite cioè non si può fare una cosa di questo genere perché la Madonna non è la quarta persona della Santissima Trinità la Madonna è una creatura d'accordo punto d'accordo che poi abbia dei contatti strettissimi con la Santissima Trinità questo è un dubbio ma è una creatura e non è bene nemmeno usare espressioni come dire metaforiche o iperboliche d'accordo perché non servono queste cose fanno soltanto danni fanno questo c'è sempre una tentazione capite perché il giusto mezzo la virtù come diceva Gialboan è sempre il giusto mezzo tra il troppo e il troppo poco capite non si può come dire andare oltre certamente non si può neanche andare meno non si può dire che la Madonna è nostra sorella ed è una creatura umana come tutti noi a noi vicino e non c'è niente di speciale questo non è possibile ecco allora occorre sempre mantenere quella santa quel santo equilibrio che la Chiesa Cattolica ha sempre 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 manifestato pensate per esempio al problema dell'eucaristia d'accordo che è stato poi risolto dal Consiglio di Trento con la transostanziazione sulla base degli scritti di San Tommaso che aveva optato per la soluzione moderata perché c'erano gli ultra realisti cioè quelli che dicevano che la trasformazione cioè tu ti mangi proprio il corpo di Cristo capito cioè che tu schiacci sotto i denti le carni vive di Cristo l'ultra realismo capito cioè uno rimane e dice schiaccia sotto le denti e poi c'erano i i simbolici d'accordo ma no ma questo è un simbolo non è che Michadea pensa che c'è Gesù Cristo veramente cioè un simbolo certamente nel pane spezzato è rappresentata la croce nel pane come alimento è rappresentato il fatto che Gesù ti nutre con di sé ma non è che ci sta veramente ecco capite cioè la chiesa ha detto sì la presenza di Cristo è reale d'accordo ma non è una presenza ultra fisica è una presenza sostanziale legata al cambiamento di una sostanza che tra l'altro non fa sì che lì ci sia la carne di Cristo capite come se fosse un pezzo di carne ma c'è la presenza di tutta la persona di Cristo attraverso la sostanza quindi c'è anche oltre al corpo il suo sangue la sua anima la sua divinità quindi se uno va a vedere e studia bene queste cose la verità si è sempre trovata nel giusto mezzo tra due posizioni estreme capite pensate anche tutte quante le polemiche luterani dobbiamo leggere solo la saga scrittura no la saga scrittura l'abbiamo leggere insieme alla tradizione guidate al magistero ci salviamo solo per la fede e no ci salviamo con la fede e anche con le opere quindi allora perdonate sempre queste piccole parentesi no io so che le suore insomma che mi hanno detto di guidare questa trasmissione ci tengono insomma che si dia anche ripeto un taglio formativo e catechetico quindi a queste cose specialmente occorre imparare un pochino questo questo stile molto molto sobrio e al tempo stesso molto molto rigoroso della chiesa e anche che hanno conservato nel corso della storia quei teologi grandi teologi tutti oggi per esempio si fasteggia uno dei più grandi teologi di tutti i tempi che è San Gregorio Magno insomma il 3 settembre è veramente un fenomeno insomma una mente d'accordo pensate che la regola pastorale di San Gregorio Magno è stato l'unico libro di testo dei seminaristi per almeno 7-8 secoli insomma quindi se in articolo è diventare prete cioè unico libro di testo la regola pastorale di San Gregorio Magno sbagliate a loro che non c'è tutti gli esami che devono fare oggi ecco però è stato veramente un genio un pozzo di scienza anche un campione anche di cattolicissimo equilibrio d'accordo quindi l'ordine e l'equilibrio sono concetti diciamo molto 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 cattolici perché molto divini ecco in Dio c'è sempre questa questa cosa no ecco i documenti ufficiali della chiesa hanno sempre mantenuto questo stile da un lato molto rigoroso e preciso dall'altro sempre molto equilibrato quindi che non ha mai aperto nessuno tipo di indulgenza né al troppo né al troppo poco quindi né a visioni come dire ipertrofiche né a presentazioni riduttive delle verità di fede ma così come sono nella chiarezza e anche nella pacatezza e nella carità quindi questo c'è sempre stato questo qui e il compito del Magistero della Chiesa vedete è trattare con tutti gli accorgimenti e la sapienza quelle verità che l'antichità ha delineato e i padri hanno seminato cioè anche la tradizione della Chiesa cioè anche la rivelazione provate un attimo a pensare la rivelazione se uno apre la Bibbia non trova un catechismo non trova un trattato di teologia non trova una cosa come dire ordinata che parte dalla Santissima Trinità assolutamente cioè lo stile che Dio ha voluto osservare nella rivelazione è uno stile un po' particolare cioè ha seminato tutta quanto una serie di cose certamente attraverso un discorso comunque ragionevole intelligente però le ha capite sparse dentro le vicende della vita non basta leggere per esempio a De Verbum il Concilio Vaticano II dice sì Dio ha rivelato delle cose per esempio a parole ma altre le ha rivelate a fatti d'accordo non a parole pensate soltanto il mistero della croce cioè Gesù che si trova in croce quella è una delle forme di rivelazione massima di ciò che Dio è capite ma è una rivelazione muta perché Gesù in croce ha fatto la predica senza aprire bocca non come sul discorso della montagna c'era aperta la bocca ma l'aperta poca insomma per dire sette significative frasi insomma ma poche no quindi qual è il compito della Chiesa che prima che scenda in campo ufficialmente la Chiesa è anche un spesso una lancia a favore della categoria il compito degli teologi degli studiosi sono sempre stati è di mettere ordine quindi di bene questo è il patrimonio queste sono le dottrine sono state in corso della storia adesso cerchiamo di dare una visione d'insieme andiamo a cercare veramente quello che è costante quello che i singoli vengono detto e da questo poi concludiamo estrapolando la singola verità di fede oppure un certo tipo di presentazione di una certa problematica di una certa branca di teatologia eccetera eccetera questo è quello che stava sempre fatto questa operazione aspetta a noi d'accordo quindi Dio non ti questo è anche rivelativo di uno stile molto importante di Dio che ha a che fare anche con la nostra vita anche con la nostra vocazione cristiana cioè Dio non ti dà la pappa pronta Dio ti dà gli ingredienti per cucinare non ti dà la pappa pronta sei tu poi che devi imparare a cucinare allora questo principio pensate per esempio un povero come lo aiuto io dandogli soltanto certamente che in certe circostanze capite bene il senso se uno sta morendo di fame glielo mandi la menza eccetera ma l'aiuto più profondo che tu dai al povero è se gli insegni a lavorare le arti i lavori i mestieri in modo tale che poi possa da se stesso uscire dalla sua condizione di povertà capite pensate l'aiuto spirituale che si dà alle anime un sacerdote lo sa benissimo no? e poi mano a mano che si fa esperienza si imparano tante cose cioè fa bene un sacerdote a dare per esempio la pappa pronta dice padre c'è questo problema che devo fa? e il sacerdote dice devi fare così no non è fare bene questo non è affatto fare bene perché Dio non fa così Dio non ti dà la soluzione al problema che tutti quanti cercherebbero Dio dice bene questa è la situazione allora cominciamo a metterci seduti e cominciamo a fare discernimento qual è il problema? questo quali sono le possibili soluzioni? questo 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 quali sono le circostanze? questo 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 che ti senti in coscienza? quest'altro 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 bene mettiti davanti al Santissimo Sacramento sai qual è la soluzione? la soluzione è tra tutte le possibili quella in cui nel momento in cui te la rappresenti senti una profonda pace e serenità del cuore questo è un grande aiuto capite? cioè la direzione spirituale se vogliamo chiamarla così è questa perché non è cioè perché chi dice fai quello fai così non è che soltanto prende il posto di Dio ma lo prende anche malamente il posto di Dio perché Dio non ti dice fai così capite? cioè allora è chiaro che il dogma dell'immacolata concessione l'ha fatto Pio IX d'accordo? l'ha fatto lui non è che se l'ha inventato perché non ha fatto altro che un'operazione come dire di raccordo e quindi di comprensione di esplicitazione e quindi di necessare conclusione a quel punto però l'ha fatto lui nella Bibbia non c'è scritto che era Madonna immacolata non c'è scritto d'accordo? e prima che ci fosse Pio IX non c'era una formulazione dogmatica così precisa non c'era così come prima che ci fosse il concilio di Trento non c'era una formulazione così precisa come che c'era la transustanziazione delle specie così prima che ci fosse il concilio Vaticano II tanto per dirne un'altra non c'era un'affermazione così esplicita anche se c'erano state delle cose che l'episcopato è un vero e proprio sacramento d'accordo? perché c'erano state come dire delle posizioni fluttuanti chi dice che è un sacramento chi dice che è una dignità chi dice che il vescovo è il prefetto del papa chi dice che il vescovo è il capo dei preti ma non si era approfondita come è stato fatto dal concilio Vaticano II come dire al completamento del pastore eternus del concilio Vaticano I che parlava del papato un approfondimento tale da dire no l'episcopato è anzitutto un sacramento quindi che significa tutta una serie di funzioni episcopali non sono delegate dal papa ma sono intrinseche nella struttura stessa del sacramento la comunione gerarchica con il papa ovviamente è indispensabile per poterlo esercitare lecitamente e legittimamente nella chiesa cattolica perché c'è il primato del romano pontefice però non è la stessa cosa dire il papa delega oppure il papa autorizza l'esercizio di potestà che il vescovo già ha di per sé è molto diverso non è una quisquiglia è un dettaglio quindi questo deve essere chiarito ed è stato chiarito capite quindi questo è il modo con cui si procede nella chiesa cattolica e quindi quest'operazione prosegue Pio IX di limazione di affinamento fa in modo che le antiche dottrine quindi quelle a volte anche espresse in termini non troppo chiari torniamo alla Madonna nella Madonna non ci sono peccati la Madonna è la tutta pura è la panaglia è la tutta santa è la deipara che significa questo andiamo a fare un'operazione di limatura di affinamento e quindi di chiarificazione precisazione vedete chiarezza luce precisione e così mentre conservano la loro pienezza la loro integrità il loro carattere si sviluppano quindi è chiaro che c'è uno sviluppo perché dal 1854 in poi dopo questa bolla c'è stato uno sviluppo dogmatico cioè c'è un dogma di fede in più e questo noi dobbiamo ricordarlo anche io quando insegnavo episiologia ai miei ragazzi faccio sempre una domanda facile facile dico allora è meglio la chiesa di oggi o è meglio la chiesa apostolica cioè è chiaro questa è una domanda a trabucchetta un po' un po' cattivella d'accordo perché per certi aspetti è meglio quella di oggi e per certi aspetti è meglio quella apostolica cioè per quanto riguarda il fervore come dire l'attenzione al martirio insomma certamente abbiamo delle testimonianze bellissime nella chiesa delle origini anche per la sua vicinanza con i tempi di Gesù che è il fondatore no? però per quanto riguarda il patrimonio dogmatico è evidente che oggi stiamo messi meglio che ai tempi apostolici cioè il dogma dell'immacolata c'è dal 1854 in poi attenzione non è che prima non c'era attenzione a quello che hai detto c'è c'era ma non era stato definito puntualizzato e chiarito semel verum semper verum cioè si trovava in uno stato come dire di non esplicitazione di non chiarezza quindi l'opera che fa la chiesa non è inventare qualcosa è chiarificare precisare definire e questo è un processo che avviene nel tempo è un processo che avviene nel tempo io ho già fatto qualche cenno perché insomma io seguo sempre con un certo distacco tutte quante le chiacchiere perché le detesto i dibattiti i polveroni che fanno a livello ecclesiale no cioè per esempio cioè la definizione che l'aborto è un omicidio contro il quinto comandamento la precisazione proprio precisa che è l'uccisione la fece San Giovanni Paolo II nell'Evangelio un vite non è che prima non si pensava ma una tale come dire precisione con una enciclica ma ricordo quando la lessi ti confinisce più questa enciclica la rossa così l'ha fatta San Giovanni Paolo II capito l'ha fatta lui cioè sulla base capite il fatto che oggi nella chiesa cattolica evidentemente la schiavitù sia considerata indegna della come dire dignità dell'uomo non era un fatto che era chiaro alle origini perché i testi dell'antico testamento ne parlano i testi del nuovo testamento i testi Paolini ne parlano come di un dato di fatto quindi è chiaro che nel corso della storia la coscienza della chiesa cresce cioè la comprensione sempre più approfondita della rivelazione va avanti con il corso del tempo non ci deve scandalizzare questo in base a quel principio e qui entra in causa San Vincenzo D'Aleren che si sviluppano queste dottrine secondo la propria natura nello stesso pensiero e nello stesso senso nello stesso pensiero nello stesso senso pensiamo per esempio alla dignità della persona umana alla sua intangibilità dall'istante della concezione fino alla morte allora è chiaro che dall'illegittimità dell'aborto discende ovviamente come conseguenza diretta l'illegittimità dell'eutanasia d'accordo ecco sapete che c'è stata recentemente la questione sulla pena di morte allora cioè allora come ha spiegato il Papa cioè qui c'è stata una evoluzione nel corso della storia capito del pensiero perché se la vita umana è sacra e inviolabile capisco che ci possono stare delle situazioni estreme ma possono esserci dei mezzi sostitutivi in base al quale cioè un uomo non si sostituisce a Dio dicendo adesso la tua vita è finita questo non ovviamente non non preclude il fatto che purtroppo fino a quando siamo in questo mondo cioè non è che adesso un poliziotto deve andarsi a confessare perché c'è la pistola perché in alcuni casi necessari purtroppo non si può fare a meno ma un conto è la legittima difesa o la tutela dell'ordine pubblico o addirittura nei casi gravissimi che Dio ce ne scampi e liberi quando uno deve difendersi da qualche aggressione del nemico che comunque ci sono tutta quanto una serie di norme morali vincolanti che prima di fare fuoco per uccidere per esserne legittimato voglia cioè devi valutare tutta tanto una serie di cose perché hai capito cioè se tu c'è di fronte il nemico potresti ferirlo anziché ucciderlo tu devi ferirlo moralmente parlando no? ecco adesso non è il caso insomma queste cose qui però già San Giovanni Paolo II già San Giovanni Paolo II scrisse chiaramente che i casi come dire in cui sembrerebbe non esserci altro sistema per tutelare l'ordine pubblico in certi momenti storici sembrano essere limitati e si contano sulla punta delle dita e sono più teorici che pratici ecco se viene poi come dire ulteriormente maturato il fatto bene rimangono solo a livello teorico quindi però a livello pratico affermiamo fino in fondo il principio dell'intangibilità della vita umana cioè il fatto che è Dio che decide quando una vita comincia e quando una vita finisce di per sé a meno che non ci siano situazioni come dire del tutto straordinarie come quelle altre che restano in piedi quindi la legittima difesa è la difesa militare quindi ma cioè che cosa ci state cioè questa è una cosa che fa parte della vita della chiesa d'accordo non ci deve non ci deve non ci deve non ci deve capite quando Paolo VI scrisse l'umane vite cioè che è successo cioè è chiaro che la chiesa ha sempre tutelato nel corso della storia ha sempre affermato la santità della sessualità umana il sacramento del matrimonio però non c'erano quelle sfide nuove d'accordo che venivano poste in essere a causa di questi ulteriori sviluppi e quindi in occasione dell'affrontamento della problematica morale legata a queste questioni sono state approfondite e definite molto bene alcune verità fondamentali sulla sessualità umana e sulla castità coniugale d'accordo quindi ecco c'è un progresso c'è un santo un sano come dire capite un sano progresso capite è come un bambino che diventa adulto il mio DNA io ho quasi 50 anni è lo stesso d'accordo di quando avevo tre giorni in casa dentro la dentro la la pancina della mia mamma ma adesso ho quasi 50 anni non sono uguale a 50 anni fa assolutamente capite c'è però sono io se mi prendi il DNA di oggi ecco capite quindi c'è questo capite quindi l'immacolata concezione è un dogma nuovo è una novità sì e no se lo vediamo sotto certi punti di vista sì se lo vediamo sotto altri punti di vista no no certamente però il momento in cui qui entra in gioco il magistero autentico della chiesa il momento in cui c'è una pronuncia e poi di questa portata come vedremo allora a quel punto da dopo l'8 dicembre del 1854 tu non puoi dire secondo me l'immacolata non è la Madonna non è immacolata no se vuoi essere in comunione con la fede divina e cattolica però capite cioè vedete anche qui l'importanza del fattore tempo no se io dicevo secondo me l'immacolata secondo me la Madonna non è immacolata fino al 7 dicembre del 1854 nessuno poteva dirmi tu sei eretico non sei comunione con la chiesa perché io questa cosa la potevo dire d'accordo capite così come che io parlo dell'ipotesi teologica del peccato originale degli angeli io questo lo posso dire cioè la presento come poi c'è d'accordo se io posso dire ma tu sei matto dico no questa è una cosa che hanno pensato fior di autori io l'ho letta e mi convince è chiaro che questo qui non è un dogma di fede ma se un domani si dovesse alzare un papo a dire guardate che ho fatto un bello studio e sulla base degli scontri dell'autore XYZ e nel corso della storia pare che sia stato questo quindi da oggi in poi io definisco che il peccato originale degli angeli è stato questo finito da quel punto in poi non è più capito sarà presentata come la chiesa dice che d'accordo non ecco io ritengo che queste cose siano molto importanti figlioni miei avere una comprensione adeguata di queste caratteristiche di queste coordinate diciamo così di queste modalità della vita della chiesa specialmente diciamo oggi nel tempo contemporaneo bene adesso leggiamo cominciamo a introdurre abbiamo qualche minuto cominciamo a introdurlo il paragrafo della definizione dogmatica vediamo una bella lettura una prima introduzione certamente per l'ultima puntata che faremo su questo tema la prossima settimana lo andremo ben bene a sviscerare allora a onore della santa indivisibile trinità a decoro della vergine madre di dio a esaltazione della fede cattolica e ad incremento della religione cristiana con l'autorità di nostro signore gesù cristo di beati apostoli pietro e paolo e nostra dichiariamo pronunciamo e definiamo la dottrina che sostiene che la beatissima vergine maria nel primo istante della sua concezione per singolare grazia e privilegio di dio onnipotente in vista dei meriti di gesù cristo salvatore del genere umano è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale è stata rivelata da dio e perciò si deve credere fermamente e inviolabilmente da tutti i fedeli quindi se qualcuno che dio non voglia deliberatamente presumerà di pensare diversamente da quanto è stato da noi definito conosca e sappia di essere condannato dal suo proprio giudizio di aver fatto un naufragio nella fede di essersi separato dall'unità della chiesa e di essere inoltre in corso da sé automaticamente nelle pene stabilite da dare leggi contro colui che osa manifestare oralmente o per iscritto o in qualsiasi altro modo esterno gli errori che pensa nel suo cuore ecco questo è il testo della definizione dogmatica vedete che è un testo molto molto rigoroso e molto preciso allora vi faccio subito notare una cosa così capiamo anche il mistero della chiesa sposa di cristo e corpo di cristo cioè di come il fatto che la chiesa con il suo signore formino una cosa sola oggi abbiamo fatto un po' una catechesi vedete quando si parla della madonna si va inevitabilmente a finire di parlare della chiesa perché tra la madonna e la chiesa ecco sono stato non contento ma di più che sia stata istituita la memoria liturgica obbligatoria di maria madre della chiesa perché maria è madre della chiesa maria è modello della chiesa maria è tipo della chiesa quindi cioè c'è proprio una simbiosi tra lei e la chiesa quindi allora il papa non dice dice che questa verità è stata rivelata da dio non è stata rivelata da me cioè non è pio nono che ha definito l'immacolata concezione ma pio nono ha preso atto con il suo carisma specifico di confermare i fratelli nella fede che questa verità dio l'ha rivelata l'ha semplicemente come dire messa sotto una coltre di non esplicitazione che ora viene sollevata attenzione questo concetto delle tante verità rivelate non in maniera esplicita ma in maniera implicita è proprio il fondamento dell'autorità magisteriale della chiesa ed è Gesù che dice lo spirito santo che il padre manderà vi guiderà la verità tutta intera non nel senso che aggiungerà nuove verità a quelle che sono state rivelate ma nel senso che farà comprendere bene scoprirà gradualmente nei tempi e nei modi che dio vuole tutto quello che è stato rivelato ora certamente dice come mai l'immacolata concezione nel 1854 qui bisogna fare una telefonata al nostro signore ma certamente noi sappiamo senza nessun dubbio che non è un caso che l'immacolata concezione sia stata definita come verità di fede l'8 dicembre del 1854 non è un caso non lo è capito così come non è un caso che l'assunta sia stata definita come vedremo il primo novembre del 1950 non è un caso non lo è capite cioè i tempi cioè per esempio nella nella rivelazione cioè per esempio c'è un concetto fondamentalissimo da cui deriva anche poi il concetto teologico di economia della salvezza che è il tempo sappiamo quando è venuto Gesù sulla terra nella pienezza dei tempi in un momento ben preciso e anche qui né prima né dopo cioè la legge del tempo è una cosa molto molto importante nello stile di Dio anche questo fu a suo tempo diciamo così un po' una sezione perdona se vuoi dire della mia tesi produttorale perché il fattore tempo io approfondi il discorso il tema della tipologia quindi come chiave di lettura anche della stessa chiesa oltre che dei rapporti tra l'antico e il nuovo testamento è un fattore fondamentale è un fattore fondamentale anche nella nostra esistenza cioè Dio opera cioè Dio vive in una dimensione che è al di là e al di fuori del tempo che è l'eternità è assolutamente semplice e l'atto che lui compie è un atto unico che però quando fuoriesce da sé e si situa nel tempo si moltiplica a livello come dire assolutamente indefinito e infinito cioè da luogo a miliardi di singoli atti capite miliardi e nel suo operare nel tempo Dio opera con una sapienza infinita e questo ci insegna anche delle cose importantissime perché il tempo per esempio molto sciocco devo dire una cosa a qualcuno quando dirgliela è una cosa importantissima sapete ma questi disperti dicono se una persona sta arrabbiata tu non devi mai dirgli ha sbagliato ma sta arrabbiata sta alterata tu non devi fargli notare che ha sbagliato perché se glielo fai notare in quel momento sicuramente non ti ascolterà e gli andrà a fare un sacco dei peccati peggio qual è il discriminante il tempo non è il momento opportuno quindi quante cose quante stupidaggini che noi esseri umani facciamo perché non siamo in grado non è facile questo ma è il discernere il tempo opportuno vi ricordate quando Gesù sale al cielo no gli apostoli stanno a guardare in alto e dicono ma sarà questo il momento in cui ricostituire il Regno di Israele cosa risponde Gesù non aspetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il padre ha riservato alla sua scelta voi andate ad annunziare il Vangelo questo è quello che dovete fare e il resto non dovete curiosare o cose di questo genere quindi questa dimensione è fondamentale attenzione però si tratta ripeto di una verità rivelata da Dio quindi capite che Dio l'ha rivelata da sempre d'accordo c'è solo un momento in cui acquisisco la certezza assoluta che questa è una cosa che Dio ha rivelato e il momento in cui questo storico in cui è avvenuto è un certo preciso lasso temporale questo ripeto è un punto fondamentale che ci fa anche comprendere tantissime cose sia a livello di vita della Chiesa capite cioè il momento in cui la coscienza della Chiesa matura che la pena di morte è meglio non considerarla tra le soluzioni possibili sanzionatorie nei confronti di un crimine per quanto grave nonostante ci siano circostanze gravi era il 2018 punto finito il 2018 non è che prima la Chiesa stava a dire andiamo a fare la carneficina la Chiesa stava sempre molto restrittiva sotto questo punto di vista sempre d'accordo come è ovvio che sia però la restrizione se uno studia è andata sempre più affievolendo 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 rimangono i casi teorici e dopodiché dice eliminiamo anche questi perché con l'attuale situazione degli ordinamenti giuridici si possono trovare soluzioni alternative ferme restando evidentemente che i delinquenti e le persone che sono pericolo per la società vanno fermate e vanno messe in condizioni di non poter offendere ecco ma la parola fine a quella vita disperata gliela lasciamo mettere al nostro signore sperando che fino a quando non ci sia la parola fine come succede a tutti quanti gli esseri umani gli si è data la possibilità almeno di convertirsi di chiedere perdono al delinquente e se possibile che si scampi dall'inferno quindi spero insomma che queste considerazioni aiutino tutti quanti a comprendere alcune dinamiche quindi non c'è niente d'accordo quindi la cosa preoccupante è quando uno se ne esce con una cosa completamente bizzarra che non c'è mai stata e allora lì non è che in linea teorica potrebbe essere escluso a priori ma certamente bisogna fare molti 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 distingo molti 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 studi e molta molta prudenza in linea di avventurarsi in eventuali formulazioni insomma o dichiarazioni precipitose diciamo così bene la prossima volta commenteremo nel dettaglio questa definizione dogmatica andando a vedere i suoi punti salienti e fondamentali a gloria dell'immacolata e anche qui a coronamento della splendida ringraziamo il Signore che ci ha lasciato funzione di magisterio infallibile del Pontefice e della Chiesa tutta anche se in altre forme e in altre modalità alla prossima settimana la mia benedizione un saluto a tutti ave maria un saluto a tutti grazie 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 a tutti